Lasciare tutto per una sola pecora Dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, ne potremmo restare interdetti. Per l'uomo è difficile comprendere e accettare il comportamento di Dio. Per Dio, siamo abituati a misurare cose e persone in base a efficacia, produttività e performance. Se un oggetto, una situazione o una persona non produce profitto, allora siamo obbligati a scaltarla. Per Dio il mondo non funziona così. Per Lui ogni uomo è importante perché è amato infinitamente. Gesù ha dato la sua vita sulla croce per ciascuno di noi. Per il Signore, ogni persona è unica, speciale e amata. In questo periodo di avvento, in questi giorni dedicati all'Immacolata, pensiamo più spesso al grande amore che Dio ha per noi, tale da donarci il suo unico figlio. Hai sperimentato nella tua vita la gioia di donarti a qualcuno per amore? Di cosa hai bisogno per sentirti felice? Potere, soldi, dominio e rispetto? Oppure servire, amare, vivere per gli altri?